Musica Un cordiale saluto, buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova edizione della Rassegna Stampa Siamo in diretta come sempre tutte le mattine, 7.30, canale 17 di Fanotv Allora buon inizio settimana, buon fine mese, insomma si mischia un po' tutto Ma di fatto l'estate ormai sta finendo anche se avremo ancora una giornata di sole e di piena estate Allora andiamo subito a vedere il santo di oggi Oggi la chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista dopo aver ricordato qualche giorno fa la sua nascita Un po' considerato il precursore di Gesù sia nella nascita sia che poi sulla stessa morte E dunque viene ricordata prima la nascita come è stato fatto qualche giorno fa di San Giovanni Battista E oggi invece la chiesa ricorda il suo martirio Il sole è sorto alle 6.30, tramonterà 5-10 minuti prima delle 8 di sera Il tempo per quanto riguarda oggi Allora questa è la stazione meteorologica di Fanotv con i dati che troverete pubblicati come sempre sul nostro sito internet Tocchianotizia.it solo per dirvi che la temperatura di questa mattina è alle 7.30 di 20 gradi E che è una bella giornata di sole Guardate questa è la fotografia scattata dalla nostra webcam che punta verso la città di Fano Il tempo però previsto dalla protezione civile delle marche Oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso con temperature stazionarie in lieve aumento Eventi di brezza tese moderati Per la giornata di domani cielo parzialmente nuvoloso con precipitazioni dalla tarda mattinata Che saranno deboli con piovaschi o brevi rovesci nelle zone dell'entroterra Ma i fenomeni si esauriranno nel corso del pomeriggio Dicevamo delle temperature, temperature che si aggirano vanno da un minimo di 18 a un massimo di 27 gradi I giornali Carlino e Corriere Adriatico Questa è la pagina del resto del Carlino Nei giorni scorsi abbiamo parlato di queste strane luci Che poi abbiamo fatto passare per oggetti non identificati Ovvero UFO Ebbene adesso scopriamo attraverso questa pagina del resto del Carlino Che intanto non sono UFO Sono delle luci che vengono studiate dall'osservatorio copernico di Saludecio E che adesso vengono messe in relazione al sisma, al terremoto Intanto ieri c'è stata un'altra forte scossa di 4.4 che è stata percepita anche a Pesaro Gli astrofisici di Saludecio appunto studiano le luci anomale del San Vicino e del Furlo In relazione al terremoto Ricorderete qualche giorno fa abbiamo parlato prima di queste luci avvistate in provincia di Ancona E poi nella zona della gola del Furlo E adesso c'è appunto chi le studia Allora andiamo a vedere subito questa notizia Che viene pubblicata a pagina 2 del resto del Carlino Studiamo tutte le luci anomale Intanto questo signore si chiama Gianfranco Lollino Ed è interessato appunto alle luci del San Vicino e sul Furlo E sottolinea l'interesse scientifico su questi eventi Che non sono ancora per il momento spiegabili Però c'è un gruppo che studia Che sta verificando Gruppi di astrofisica Che sono impegnati nelle ricerche di questo fenomeno Fenomeno che riguarda i globi di luce di questo paese della Norvegia Che dà nome appunto a questi globi Dove appare con ricorrenza un enigmatico fenomeno luminoso Tra questi studiosi appunto c'è questo signore C'è una intervista che ha realizzato Simona Spagnoli a questo ricercatore E alla domanda che cosa avete rilevato E lui risponde che la direttrice dello sciame sismico Da Cumoli fino a Norcia Coincide con la faglia al cui apice ci sono appunto queste luci Sono fenomeni casuali ma non abbiamo stazioni di rilevamento Sappiamo che sono state osservate al Furlo Ma potrebbero essersi verificati anche altrove Senza essere però state segnalate E questo è il limite e anche il fascino di questa ricerca Sotto invece l'arcivescovo di Pesaro Piero Coccia Che prega per i suoi concittadini ascolani Un messaggio di vicinanza anche dalla conferenza episcopale marchigiana Partecipiamo al dolore Piero Coccia è ascolano Nel momento del dolore e della ferita estrema Ha voluto rivolgere il suo pensiero a quelle zone A lui così care Schianto contro un'auto Grave una coppia in moto Siamo a Colombarone Pesaro un incidente alla rotatoria Illesi gli occupanti della Mercedes Prognosi riservata per gli altri due Con la truffa invece del parente Spillano attenzione Ben 6.500 euro ad un'anziana Un falso avvocato terrorizza Una 71enne residente in via Lubiana Poi invia il suo emissario Ed il gioco è fatto Il classico La classica telefonata dell'incidente Con l'avvocato eccetera eccetera Ormai ve l'abbiamo raccontata mille volte Ma non c'è niente da fare Ebro al volante Travolta un'intera famiglia Una tragedia sfiorata in via Fratti Sabato notte E siamo sempre a Pesaro E sul resto del Carlino A Fossombrone Invece è tornata in azione La banda che fai esplodere Oppure addirittura adesso è Stirpa Nel vero senso della parola Il Bancomat L'ATM delle banche Questa volta è successo A Fossombrone Al Monte dei Paschi I ladri hanno usato un carroattrezzi Un po' come era avvenuto Qui a Fano Ai danni di un'altra banca Di un altro istituto di credito Che si trova nella zona di Bellocchi di Fano I residenti della zona di via Oberdan A Fossombrone Si sono svegliati Hanno dato l'allarme Erano più o meno L'orario sempre lo stesso Tra le 3 e le 4 Insomma 4 e 15 Di ieri mattina Si sono portati via letteralmente Il Bancomat Della filiare dei Monte Dei Paschi di Siena In viale Oberdan Quella situata poco prima Del distributore di benzina Questa è la notizia Appunto che riguarda La cronaca di Fossombrone Nuove strategie invece Per il Carnevale di Fano C'è stato un incontro Con l'assessore regionale Pierone Invitato dal consigliere regionale Boris Rapa Dobbiamo proiettarci al futuro Sinergia con la regione Per sfruttare le grandi potenzialità Di richiamo di questo evento Che lo ricordiamo È l'evento più antico della città E il Carnevale più antico d'Italia Chi vuole andare in moto Nella gola del furlo Ci ripensi e mi ascolti Si arricchisce con una lettera Il dibattito Sull'utilizzo ideale della strada Si contrappongono due visioni opposte E poi sempre dal resto del Carlino Su quanto riguarda il terremoto Adesso ci si domanda E lo si fa Parlando un po' Di quello che è stato Questa tragedia Se fosse capitato da noi E già Se fosse capitato da noi Ci sono qua paesi Senza fare i nomi per carità Ma ci sono paesi Che più o meno Non sono costruiti Così come li abbiamo visti Nell'entroterra Marchigiano E se fosse successo da noi Delle città Sarebbe rimasto ben poco Ne è convinto anche L'ingegner Marchetti Rossi Che è qui Pubblicato nella fotografia Nel tondo Se l'epicentro fosse stato a Pesaro Cosa restava del centro storico Dice Matteo Riccia La festa dell'unità Che si svolge a Pesaro E poi sul Carlino Facendo balenare Una mezza catastrofe E quindi la domanda È stata fatta All'ingegnere Che ha risposto E l'esperto dice Le costruzioni del 600 Del 700 Del centro storico Non resterebbero Certo in piedi Ma al di là del centro storico Di Pesaro Ci sono ahimè Anche tanti paesi Qua dell'entroterra Che sono più o meno Nelle stesse condizioni Di accumule Amatrice Pescara Del Tronto Eccetera Ok Andiamo adesso a vedere Invece il Corriere Adriatico Il Corriere Adriatico La pagina di Pesaro Censire tutti gli immobili L'ordine degli ingegneri Questa è la pagina di Pesaro L'ordine degli ingegneri Esistono scuole Ed ed edifici storici Che necessitano Di interventi mirati Sono tutti da mappare I palazzi condominiali Degli anni 60 e 70 Realizzati senza criteri Antisismici Chi ha avuto la possibilità Di guardare E di vedere Per esempio Qualche servizio Che sono stati realizzati A Norcia Che è più o meno Una ventina di chilometri Dall'epicentro Dove appunto Interi paesi Sono stati Borghi Sono stati Rasi al suolo Ebbene Norcia Che arriva dal Belice Ha vissuto Altri terremoti Devastanti Norcia è stata Completamente distrutta Ricostruita La dovera In quel modo Però con criteri antisismici In questa occasione Non ha avuto Neanche un grafio O poco Poco più Quindi niente di Straordinario È rimasta Completamente in piedi Il che significa Che Se ci sono Le case antisismiche Non ci sono problemi Non cadono Addosso le persone Gara a donare i giochi Riempito un camion Grande adesione Affanno L'iniziativa Dell'Africa Chiama Presente anche Il sindaco Massimo Seri Che ha incoraggiato A partecipare Guardate Camion pieni Stipati Di roba Ieri ero A messa a Pesaro E il parroco Del porto Diceva Nella messa Delle 8 e 30 Diceva Basta Non portateci più niente Perché non abbiamo Neanche noi Più fisicamente Il posto Dove mettere la roba Il che significa Che ovunque La partecipazione La generosità Delle persone È stata tantissima Però ecco Mentre adesso Ci dicono stop Alle donazioni Soprattutto Non quelle in soldi Quelle in soldi Bisogna continuare a farle Sono stati raccorti Ormai 10 milioni Con il numero solidale 45 500 Ma stop Stop adesso Le donazioni Di viveri Generi anche Lunga scadenza Ma non dimentichiamoci Che questo stop Potrebbe essere Invece start Fra qualche settimana Cioè ricominciamo A dare qualche aiuto Perché magari Fra 3-4 settimane Quando i riflettori Dei telegiornali Si spegneranno E là Tutto tornerà Ad essere Abituale Ecco Ci sarà forse Bisogno ancora Di noi Che siamo I più vicini All'epicentro Allora Schianto alla rotatoria Siamo sempre Sul Corriere Adriatico Di Pesaro Grave una coppia L'incidente Nella notte Lungo la statale Adriatica All'altezza Della rotonda Di Colombarone Una Mercedes Con tre ragazzi A bordo Ha tamponato Una moto Con in sella Marito E moglie Si tratta Di tre giovani Pesaresi 19, 20 e 26 anni Tutti rimasti In lese A condurre la moto Un 47enne Residente d'Ancona Con lui la donna Di 43 anni Originaria di Osimo Questa è la Cronaca sulla pagina Di Pesaro Del Corriere Adriatico Poi Ancora Da Fano Competizioni Di abilità E forza I fanesi scoprono Il Medioevo Stiamo parlando Del Palio delle Contrade Registrati Quasi 8 mila Spettatori E Grande affluenza Ai due giorni Di eventi Con attrazioni Spettacolari E di Grande Fascino La storia Con questa ricostruzione Rigorosa Nel corteo C'è anche L'amante Di Pandolfo Terzo Addirittura Poi c'è La moglie Paola Bianca C'era insomma L'amante Antonia Da Berignano Il figlio Pandolfo Sicismondo Insomma C'è Molto È stata una ricostruzione Molto Precisa Interessante E vedete Le foto Parlano In maniera Chiara Anche dai vestiti Vedete come sono belli In tutti i suoi particolari Adesso Sulla pagina di Fano Numero Pagina 18 Del Corriere Pieroni L'assessore regionale Che è stato accolto Nei cantieri Del Carnevale Scopre La magia Dei carri Di Cartapesta C'è C'è stato Questo incontro Per parlare Del futuro Rapa Chiede Che ha voluto Questo incontro Chiede più sostegno Dalla regione Marche Guarda all'estero Serie marcheggiani Sono fiduciosi Allora Adesso L'altra pagina Invece Le altre pagine Andiamo Su Pesaro E Provincia Siamo A Montelabate Un tripudio Azzurro E Marrone Al Palio Trionfano I carrettieri Del Paese De Sora La Contrada Si aggiudica La terza edizione Dalla disfida Che coinvolge Tutta Osteria Nuova Sempre dal Corriere Assalto Notturno Al Bancomat Dei Monte Dei Paschi Di Siena Colpo La filiale Di Vea Oberdano Fossombrone Almeno Quattro I malviventi In azione Danni ingenti Allo sportello Della banca E il mezzo rubato All'officina Car Service Probabilmente È la stessa identica banda Che ha colpito A Fano Che poco prima Qualche ora prima Aveva rubato Un carroattrezzi In un'officina Sempre poco distante Insomma Nella zona Del mare L'ultima tendenza La passeggiata Del benessere A Pesaro Dopo il Nordic Walking E sempre più popolare Le camminate Di gruppo Da Urbino Invece A Ospedale Decidano I sindaci Non L'applicazione Di Google Map Si riaccende Il dibattito In attesa Della convocazione Dell'area vasta Da parte Del presidente Che è anche Il sindaco Di Urbino Gambini Poi Siamo ormai In chiusura Andiamo Sulla pagina Della Valle Del Cesano Eccola qua Piace il castello Dai ritmi Slow È l'estate Del record Dei turisti Da Mondolfo Arriva Questa notizia Che attira Sono attirati I visitatori Con il suo patrimonio Storico Civile E religioso E poi Il sindaco Di San Giorgio Di Pesaro Invece Ordina Di abbattere Le nutrie Perché Questi roditori Scavano Gallerie Intorno al bacino Idrico Favorendo Il dissesto Geologico E adesso Ci aspettiamo Chiaramente Anche La protesta Degli Animalisti Senigallia La fiera Fa subito Il pienone Tutti a caccia Di occasioni Siamo a Senigallia Non sono stati occupati 40 spazi In 10 Hanno rifiutato Di andare In Piazza Garibaldi Parapiglia Tra due Ambulanti Per la posizione Da occupare Tutto poi Però È filato Liscio Si prendono a pugni Invece Sempre a Senigallia Per uno sguardo Alla ex È stato necessario L'intervento Della polizia Per dividere I contendenti Alle 20.30 Stasera C'è il telegiornale Occhio alla notizia Grazie per averci seguito Buona giornata Grazie per averci seguito